Allora, rieccoci insieme. Tema infortuni e morte sul lavoro, insomma situazione del mondo lavorativo non certo tranquilla. Vi ripresento i nostri ospiti, questa volta partendo dalla mia destra, e quindi l'avvocata Anna Zampieron, penalista. Grazie di essere con noi molto esperta, da tantissimo tempo segue purtroppo queste vicende sul profilo giuridico e quindi penale naturalmente. Quindi ci racconterà che appunto siamo anche dal punto di vista giurisprudenziale, le sentenze, quelle che sono le casistiche anche più frequenti. Il senatore Giovanni Andrizi, Movimento 5 Stelle, grazie di essere anche lei qui con noi. Buonasera, Stelio Bianchin, presidente provinciale AMMI, l'Associazione Nazionale Multinati Invalidi del Lavoro, grazie. Beppe Turuda, consulente sempre dell'AMMI per le malattie dall'amianto, quindi malattie professionali. Gianfranco Refosco, segretario della CISL Veneto, esperto nel settore, grazie anche a lei. E Renzo Pellizzon, responsabile regionale salute e sicurezza, CGL Veneto. Allora, vediamo insieme il servizio perché se ne è parlato a livello nazionale, sono i dati che sono stati forniti dall'Ine, i dati ufficiali. Abbiamo anche degli osservatori che hanno lavorato sul settore, c'è l'osservatorio di Bologna per esempio, ma anche altri che li hanno elaborati, Vega Formazione, insomma diversi. Però i numeri quelli sono, tira e gira da una parte e dall'altra, sono in aumento. Vediamo insieme. Dopo il 2017 che ha segnato già un record nero per le morti sul lavoro, anche il 2018 segna un capitolo negativo, 162 morti ci sono stati. Perché in Italia ancora si muore di lavoro? In Italia si muore di lavoro ancora perché intanto la scarsità dei controlli sul territorio che registriamo in questi ultimi anni, manca una vera cultura della sicurezza. I controlli ci sono, sono efficaci? I controlli quelli che ci sono sono scarsi. Lì dove arrivano si raggiungono l'efficacia, ma c'è tutta una parte burocratica che viene svolta dagli ispettori che spesso porta via al lavoro effettivo che è quello di verifica e controllo sui luoghi di lavoro. Noi purtroppo registriamo che parecchi lavoratori pur lavorando nei cantieri vengono applicati contratti diversi che vanno dal metalmeccanico ai multiservizi. E siccome questi contratti non prevedono la formazione d'ingresso, questi lavoratori entrano in cantiere senza aver fatto la formazione. Qui sotto per esempio c'è un cantiere, cosa c'è che non va? Quel lavoratore non dovrebbe essere assolutamente vicino allo scarico dei calcinacci e del materiale di risulta, non deve stare dentro al cassone, dovrebbe stare fuori. Ma non c'è nessuno che controlli che questo avvenga? No, sicuramente ci dovrebbe essere un capocantiere o un preposto alla sicurezza. In questo caso non c'è. Lei accennava prima a dei contratti diversi, alcuni edili addirittura hanno dei contratti come badanti o come florovivaisti. Perché? Perché il contratto di diritto è un contratto oneroso dal punto di vista sia della paga, sia dal punto di vista dell'Inel che dell'Inps. Per cui parecchie aziende preferiscono scegliere contratti meno onerosi che possono essere quello del multiservizi o quello quando va bene dei metalmeccanici. Sempre più aumentano i lavoratori anziani che perdono la vita, anche oltre a sessantenni. Sì, sicuramente è un dato preoccupante, è quello che diciamo da sempre, che la legge Fornero ha messo tutti sullo stesso piano. Invece dobbiamo ribadire che i lavoratori non sono tutti uguali perché svolgono lavorazioni diverse e che quindi alcuni lavori sono più usuranti e quindi vanno trattati in maniera diversa. E quindi serve un anticipo ancora migliore di quello che abbiamo ottenuto con l'APE fino ad oggi. Un aumento della produzione, quanto incide su anche l'aumento del rischio di morti sul lavoro? Ma in via teorica non dovrebbe rappresentare nessun problema dal punto di vista della sicurezza. In linea pratica, venendo fuori da una crisi, spesso le aziende tendono a risparmiare e il primo risparmio che fanno è proprio sulla sicurezza. Noi negli ultimi dieci anni abbiamo perso ufficialmente il 50% della forza lavoro del settore. Il problema è che non abbiamo avuto un'inversione di tendenza nella stessa misura delle morti nei cantieri. Per cui paradossalmente durante la crisi, con meno occupati, ci sono stati gli stessi morti che si avevano quando la crisi non c'era. E questo è un dato molto, molto allarmante. Allora, segretario, incominciamo un po' da lei. Un lavoratore veneto su 5 nel corso di 5 anni è colpito da un incidente sul lavoro, mentre i morti sono 560 circa. 375.135 gli infortuni sul lavoro denunciati all'Inail, denunciati all'Inail in Veneto, dal 2013 al 2017. Cioè, una strage. Dopo parleremo anche delle malattie, i validanti, eccetera. Però una strage. Una cosa impressionante. Sicuramente. Noi siamo di fronte al fatto che una ripresa economica, oggi c'è, è innegabile dirlo. Di fronte a questa ripresa economica però aumenta il lavoro precario. Lavoro precario, giovani, anziani, che vengono assunti con contratti a termine. Con loro non viene fatta il minimo di informazione necessaria. E quindi assolutamente non c'è prevenzione. E di fronte a questo dato, noi abbiamo una situazione preoccupante relativa al fatto che giovani e anziani sono i primi che sono colpiti da questa strage che diceva lei prima. Quando un giovane, diciamo l'1% di giovani fanno parte del mercato del lavoro, sono colpiti dai fortuni il 13% di giovani. Quindi sono numeri più importanti. Quindi questo è il dato dove si paga di più. Si paga di più perché di fronte ad un aumento economico del lavoro e dell'interesse, anche delle aziende, diciamo, non c'è un interesse a pari merito per quanto riguarda la sicurezza. Quindi noi abbiamo lanciato in questi ultimi giorni, settimane, unitariamente, un primo maggio sulla sicurezza per sensibilizzare ancora la cultura delle persone, insomma, su questa questione e l'abbiamo dedicato proprio alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro. Ecco, se noi vediamo appunto a video un grafico, uno spaccato un po' che è stato elaborato. È possibile in qualche modo far qualcosa? Perché la cosa lascia abbastanza indifferenti quando non se ne parla. Però poi parli con le famiglie che sono state colpite da persone, sono famiglie distrutte. E sembra una situazione quasi da terzo mondo. Nel nord Europa non abbiamo questi numeri. Noi siamo di fronte al fatto che in questi ultimi mesi c'è stato, tra l'altro, un accorpamento delle usle in questa regione, nella regione del Vento. Di fronte a questo accorpamento noi abbiamo una carenza del personale, degli ispettori, degli spisal. Questa carenza porta ad un mancato controllo da parte appunto degli organi di servizio e di prevenzione sulle aziende. D'altra parte l'INAI stesso ci dice, attraverso l'ispisal, che il 66% nel Vento ci sono aziende irregolari. 66%? 66%. Quindi questo dà il senso e la mole del lavoro che bisognerebbe fare. A fronte di questa mole del lavoro si riduce il personale perché va in pensione, non viene sostituito e c'è una carenza pesante di organico. Se a queste cose qua aggiungiamo quello che dicevamo prima, e cioè il fatto che si apriano i contratti a ribasso, si applicano situazioni di appalto su al palto dove i contratti vengono in concorrenza con i contratti nazionali. C'è una situazione di illegalità forte perché se tu non fai i controlli ovviamente aumenta l'illegalità e a fronte di questo dato ovviamente si sommano una serie di situazioni. Quello che è possibile fare secondo noi è puntare al fatto che con le strutture, le istituzioni competenti ci sono degli accordi importanti. Io cito quello che ha fatto l'INAI in questi mesi e cioè ha fatto un progetto di prevenzione 2020 insieme alle organizzazioni sindacali in cui si sta lavorando e ragionando sull'informazione e sulla formazione. Si fanno progetti mirati su questo aspetto del problema. Questo è il punto che dopo lo tiriamo fuori dopo su possibili soluzioni. Intanto vediamo un po' di analizzare un po' il problema per sensibilizzare anche chi ci ascolta. Anche voi avete fatto delle analisi, non solo la CGL ha elaborato, la CISL ha analizzato dei dati. Che cosa puntate l'attenzione? Allora, intanto i fatti tragici che succedono quotidianamente hanno per fortuna, dico, attirato anche l'attenzione delle istituzioni e dei media su una tematica che rischia molto spesso di essere dimenticata. Fa poco, attira poco l'attenzione un morto sul lavoro o un infortunato sul lavoro. Noi abbiamo moltissime persone che si infortunano e che diventano invalide sul lavoro mettendo non solo in condizioni difficili la persona, ma anche mettendo a rischio il posto di lavoro da questo punto di vista di questa persona. Allora, prima di tutto va fatta un'analisi approfondita di quello che sta succedendo. Allora, noi dobbiamo dire, e lo diciamo anche rivendicando alcuni risultati come sindacato, che dal 2010 ad oggi gli infortuni sul lavoro denunciati in Veneto e accertati sono calati da circa 47.000 che erano nel 2010, quindi già in crisi, ai 33.000 del 2016 che sono l'ultimo anno con i dati disponibili. Quindi c'è un percorso di riduzione, sono comunque tantissimi, 33.000 infortuni. Poi andrebbe fatta un'analisi sulla gravità di questi infortuni, però diciamo che c'è una tendenza che spiega anche che alcune azioni che ci sono messe in campo stanno dando dei risultati, seppur non ancora, diciamo, ottimali. Io vorrei sottolineare due aspetti che noi riteniamo fondamentali in questo momento. Il primo è l'aspetto della prevenzione, perché le ispezioni nelle aziende sono parte di un'azione che deve essere un'azione di prevenzione e che però dal nostro punto di vista passa per una forte iniziativa di formazione sia degli imprenditori che dei lavoratori. Cioè la formazione, che non vuol dire solo informare le persone, ma accompagnarle a un cambiamento di comportamenti, vediamo che è fondamentale. Se noi vediamo i dati sui morti del lavoro degli ultimi cinque anni in Veneto, un terzo dei morti sul lavoro vengono dall'agricoltura e la maggior parte di queste sono persone che sono state schiacciate dal macchinario, dal trattore. E qui abbiamo chiaramente un aspetto che riguarda in maniera molto stretta il comportamento della persona, oltre ai mezzi tecnici che possono evitare, diciamo, che se il trattore si rovescia la persona venga schiacciata. Quindi possono esserci degli accorgimenti. Però prima di tutto viene il comportamento. Quindi primo aspetto, noi puntiamo molto, e questo all'inizio degli anni 10 era stato fatto, 2011-2013, un percorso massivo di formazione dei lavoratori e degli imprenditori. Il secondo aspetto, bisogna mettere in rete le istituzioni, gli Spisal, le associazioni varie che operano in questo campo, l'Inail. Noi come CGL CISLW in Veneto abbiamo più di un migliaio di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle aziende, che possono essere dei ricettori molto forti per denunciare quello che non va e se messi in rete con le istituzioni cercare anche le soluzioni. Magari non essere il singolo lavoratore che fa la denuncia. È molto difficile, anche se ci sono imprese dove abbiamo fatto dei passi in avanti, penso soprattutto però a grandi imprese, dove c'è una cultura della prevenzione che è abbastanza radicata nei comportamenti aziendali. Però ecco, non basta la repressione che va fatta per chi non rispetta le regole, noi riteniamo fondamentale la formazione delle persone e la stretta collaborazione fra le varie istituzioni. Perfetto. Senatore, certo, lei non è specializzato in questo, ma che idea si è fatta così, un po' sentendo questi dati anche in questi giorni, col primo maggio che se ne è parlato, poi uno proprio in Veneto, in Veneto purtroppo ha dei numeri importanti, probabilmente dovuti anche al fatto che ci sono tanti più lavoratori in proporzione, però cosa pensa di questo? Non è così perché siamo a secondo in Italia, pur non avendo come forza lavoro, siamo dietro alla Lombardia che però ha il doppio degli abitanti e più del doppio dei lavoratori, non è una questione soltanto di numero di occupati. Dipende anche dai settori, è stato detto che in alcuni settori si stenta di più ad avere una cultura, la crescita della cultura della sicurezza. Allora poi avrete alcune domande perché i dati devono essere letti poi in filigrana e nel dettaglio. Macroscopicamente rilevo che deve cambiare probabilmente la cultura del lavoro. Noi oggi dobbiamo tener conto del fatto che nella globalizzazione il lavoro è diventato merce, è diventato un fattore produttivo inanimato quasi, come se dietro ogni lavoratore non ci fosse una persona è una famiglia e si vede la casellina, si vede che questo è un fattore produttivo che incide per determinati costi che vanno minimizzati e allora la sicurezza, voglio usare un paragone forse un po' forte, è come quella che si applica alla propria automobile, metto l'olio, lo cambio con la frequenza che va in equilibrio, se mi costa di più o di tanto in tanto rischiare di fondere o è più il costo dell'olio che aggiungo. Non può essere questa una logica quando abbiamo a che fare con persone, la sicurezza non può essere considerato un costo ma un investimento perché altrimenti quei costi si scaricano in termini di sofferenza, di ingiustizia su famiglie e cittadini ma anche dal punto di vista economico, scusa se l'era un po' secca, dal punto di vista economico sul sistema sanitario nazionale, sul sistema previdenziale, noi abbiamo più invalidi, abbiamo più famiglie che si trovano senza reddito immediatamente con tutte le conseguenze che possono capitare e un sistema di protezione che non è adeguato perché oggi noi abbiamo tutta una serie di categorie che non hanno copertura inail, non hanno copertura in caso di malattia, vengono considerati in maniera fittizia e autonomi quando il rapporto è chiaramente nella sostanza di tipo subordinato e da questo punto di vista siamo chiamati come legislatori a rendere proprio il mercato del lavoro più equo. A livello internazionale abbiamo poi la concorrenza sleale di nazioni che non attuano al loro interno le stesse disposizioni a garanzia dei lavoratori sia per quanto riguarda l'esposizione a fattori inquinanti sia per quanto riguarda il rischio di incidenti, è chiaro che lì produrre costa di meno e allora arrivano questi prodotti, si è aperta un'autostrada all'arrivo di queste merci che fanno concorrenza alle nostre imprese con una concorrenza sleale. È assolutamente sbagliato pensare di lasciare le nostre imprese da sole e sopportare una concorrenza di questo tipo, anche qui il legislatore deve intervenire. Assolutamente, con lei è toccato un altro aspetto importante che è quello sanitario, socio-sanitario direi io, perché poi c'è anche l'aspetto socio-sanitario. Se mi permette ancora un intervento sulle considerazioni che venivano fatte poco fa sul mettere in rete le istituzioni. Noi abbiamo chiesto all'interno del Jobs Act che fosse e spunta la norma che rendeva facoltativa l'inchiesta in caso di incidente grave. Abbiamo detto non può essere a richiesta del datore di lavoro, della vittima o del superstite, la richiesta di attuare un'inchiesta. Se il caso è grave, questo deve essere prodotto dall'ufficio. E le risultanze di questa inchiesta devono essere messe a disposizione... Scusi, senatore, se c'è un reato... No, non è necessario che ci sia un reato. Non è necessario che ci sia un reato. Ah, eccolo. Perché anche se ci sono delle carenze o delle migliorie apportabili, le cause devono essere apportabili. Poi se ci sono rilievi penali, prenderanno... Ah, eccolo, allora... Ma è un reato dell'inchiesta, soprattutto... Volevo solo chiarire... Anche questo avevamo chiesto con un emendamento, proprio di quei rappresentanti della sicurezza dei lavoratori che ci sono dentro le aziende e che quando capita un evento di questo tipo vengono informati su quel che emerge dalle analisi soltanto facendo richiesta di accesso agli atti. Dovrebbe essere invece questo immediatamente reso disponibile, perché la conoscenza è il miglior modo di creare quella cultura all'interno dell'azienda come, diciamo, diffuso nella popolazione. Chiarissimo. Avvocato, devo aggiungere... Sì, se mi permette due elementi alla luce di quanto ho sentito. Il senatore ha richiamato l'intervento del legislatore, dicendo qui il legislatore dovrebbe intervenire e ha fatto due paragoni che mi sono secondo me molto interessanti. La sicurezza vista dal punto di vista dell'organizzazione dell'impresa come il cambio d'olio delle automobili. Io credo che si dovrebbe arrivare a pensare alla sicurezza del lavoro come quando ci si mette la cintura di sicurezza, cioè al cambio d'olio si fa una tantum, la cintura di sicurezza si fa ogni qualvolta, si accende e si avvia il motore. Questa è cultura della sicurezza di cui parlava il rappresentante CGL e credo che debba essere questo il nostro traguardo, il nostro di tutti come uomini. Poi da giurista dico che l'intervento del legislatore, mi permetto di dire, siamo già... Voi con le leggi siete sommersi. Siamo già completamente... Io credo che la legislazione è sulla sicurezza. Io ho esperienza nel processo, ma di convegni ne abbiamo fatti a bizzeffe con il procuratore Guarinello, con i massimi esperti di sicurezza sul lavoro. La legislazione in realtà c'è. Il decreto legislativo 81 del 2008 è un testo unico che già ingloba tantissimo. Ci sono dei richiami a delle legislazioni speciali, per cui francamente sentire un intervento ancora del legislatore un po' mi preoccupa da giurista. Cioè, secondo lei, è esaustiva la copertura del legislatore. E anche il richiamo che faceva il senatore alla concorrenza straniera... Non hanno fatto nemmeno tutti i decreti attuativi, diciamo, dell'81. Sì, però, guardate, i decreti attuativi, già la spina dorsale principale del decreto legislativo 81 basta e avanza, perché si possono fare i controlli, gli accertamenti, si possono fare le indagini e si possono raggiungere le condanne. Ma prima di arrivare alle condanne, le società devono applicare i principi della legge. E poi parlava di concorrenza sleale il senatore, che secondo me è un tema molto importante, il rapporto con i lavoratori esteri. Anche qui invocava la partecipazione del legislatore. Mi permetto di dire molto sommessamente, da giurista, io sono un tecnico, che esiste già una legislazione che è la legislazione 231 del 2001, quindi è in vigore da circa 17 anni, che tratta proprio tutti i casi in cui l'impresa risponde se si vengono commessi dei reati. Ma i reati vengono commessi quando si sottopongono, per esempio, i lavoratori ad uno stato di pseudoschiavitù o il caporalato. Questi reati sono stati catalogati e valgono anche per le imprese che hanno il cervello in Italia e lo stabilimento in Cina, per capirci. Per cui, spingere ancora il legislatore, io mi rendo conto che chi fa il legislatore è questa la leva di intervento, ma di leggi ne abbiamo già abbastanza, basterebbe applicarle e fare i controlli. E' tutto su questo. Noi abbiamo insistito nel Jobs Act perché fossero migliorati i livelli di controllo. Questi sono assolutamente inadeguati. Allora, il principio c'è, ma non viene attuato. Ricordava, chiedo scusa, che non ci sono ancora molti decreti attuativi e alcuni decreti attuativi del giorno non sono risultati soddisfacenti. È vero che noi dobbiamo rendere più snella la parte, diremo, strettamente burocratica, ma dobbiamo garantire anche che gli addempimenti poi si possano svolgere col minor costo per le aziende e con la massima efficacia per i lavoratori. E qui le istituzioni non possono vedere disarmata l'amministrazione pubblica e non in grado di intervenire e di portare il suo contributo. Assolutamente. Ne so della parola in Castello Bianchini perché abbiamo parlato anche di aspetto sociale che per voi è anche molto importante e tra l'altro oltre che le morti ci sono gli infortuni. Però voglio dare di tempo, quindi andiamo in pubblicità prima e tornati dalla pubblicità riprendiamo.